Al Barberino Designer Outlet del gruppo MacArthur Glen, screening gratuiti per la prevenzione precoce del tumore al seno. Ieri e oggi tutto il centro si è tinto di rosa e a tutte le donne, ma non solo, è stato donato l'ormai famoso Ribbon Rosa di Comen Italia, simbolo della lotta ai tumori del seno. Le unità mobili di Comen Italia, attraverso strumentazioni ad alta tecnologia, offrono gratuitamente prestazioni cliniche per la diagnosi precoce dei tumori del seno. Per lo screening necessaria la prenotazione, un'iniziativa molto importante soprattutto in un momento come questo ultimo anno dove molte donne hanno rinunciato ai controlli periodici a causa della pandemia da Covid. Crediamo fortemente nel progetto di Comen Italia, che lavora da anni con serietà per tutelare la salute delle donne. Ha dichiarato Maria Chiara Bellomo, Center Manager di Barberino Designer Outlet, sostenere la prevenzione è una scelta importante che il gruppo MacArthur Glen dedica alle moltissime donne che vivono ogni giorno i nostri centri. Circa il 70% del personale dei punti vendita e dipendenti è donna e sono donne circa la metà dei visitatori del centro. Grazie a tutti.